Uno spazio di ospitalità ed accoglienza, un punto di riferimento ed un centro di lavoro guidato per persone diversamente abili, un progetto di sostegno per chi è in difficoltà. E' questo Casa Giovanna, una casa famiglia che da anni opera nel territorio picentino, accogliendo persone disabili dai 18 ai 65 anni di età. E' un progetto di accoglienza residenziale a scopo terapeutico riabilitativo. Si tratta di persone che hanno bisogno di uno spazio abitativo alternativo alla famiglia, o perché privi ormai del proprio nucleo familiare, o perché questo risulta non più adeguato a sostenerle nelle loro situazioni di disagio per le problematiche che presentano. Casa Giovanna è un vero e proprio centro socioeducativo che consente un reale impegno quotidiano riempendo le giornate dei membri della casa famiglia. Tante le attività artigianali svolte, dalla ceramica al ricamo, dalla pittura al lavoro in vimini, ma anche danza, canto, recitazione e ginnastica, momenti di socializzazione e di svago. Casa Giovanna è nata grazie all'amicizia e alla collaborazione tra Alfonso Pinto e Cosimo Capogrosso, da anni impegnati nel sociale. Le attività di Casa Giovanna sono molteplici, abbiamo molti laboratori, abbiamo un laboratorio di ceramica, un laboratorio di cestinaggio, coloriamo sul vetro e poi in più facciamo più cucito, ricamo e facciamo un'attività molto importante che l'integrazione è proprio diversamente abile perché se ne parla sempre però questo è difficile che avvenga, allora il nostro sforzo è di proprio integrarli sul vero senso della parola. Non a caso, oltre all'attività pomeridiane, mattutine per quanto riguarda il laboratorio, di giorno facciamo attività culturale, sarebbe musica, teatro, insieme anche a degli altri e poi facciamo attività sociali, in che senso? Noi due giorni alla settimana, dalle sette in poi fino alle dieci e mezza, usciamo, andiamo al teatro, andiamo a bowling, facciamo la pasteggiata per Salerno, andiamo a iniziative che ci propongono gli altri, qualsiasi iniziativa sia musicale, sia di animazione, sia artistica, qualsiasi attività sportiva, perché noi ci sforziamo come associazione di impegno solidario proprio ad integrare le persone, infatti non a caso, io non dico mai che sono dei pazienti ma sono degli amici. Dal 98 al 2006 l'abbiamo costruita e nel 2006 noi siamo entrati, si chiamava Casa Amica inizialmente, poi ci fu la WillDM che diede il nome di Casa Amica alle loro iniziative, noi nel frattempo abbiamo avuto la disgrazia io personalmente di perdere mia moglie che aveva tanto lavorato per realizzare questa struttura, questa casa di accoglienza per i ragazzi disabili e quindi alla fine poi questa struttura si è chiamata Casa Giovanni. Perché una struttura per disabili? Una struttura per disabili perché quando ci siamo messi insieme io e mia moglie abbiamo dato la nostra disponibilità ad accogliere, nasceva all'epoca la prima normativa per gli affidamenti, il cambiamento della legge sull'adozione, e demmo la nostra disponibilità ad avere qualche bambino in affidamento. La prima bimba che ci fu proposta fu Paoletta, una ragazzetta abbandonata, una bimba abbandonata al brefotrofi di Salerno che aveva 4 anni con problemi gravi di disabilità, ha una tetraparesi spastica. Per cui dopo i primi anni che lei ha fatto terapia e le scuole elementari alla nostra famiglia a Cava ci siamo posti il problema di cosa farle fare dopo il percorso scolastico. E quindi abbiamo cominciato a girare per l'Italia, a verificare altre realtà di associazioni, cooperative, enti che avevano già avviato da anni iniziative per dare un sostegno a questi ragazzi disabili e abbiamo scoperto il dopo di noi, le case di accoglienza, il centro socioeducativo e abbiamo realizzato questa struttura. Un impegno quotidiano ed una personale soddisfazione per Anna, Antonella, Alfonso, Pasquale, Lucia e quanti vivono lì ormai da anni. Hanno voluto raccontarci le loro storie, il loro passato e soprattutto il loro presente, circondati dalla loro nuova famiglia, ciò che per loro ormai è diventata Casa Giovanna. Soltanto alcuni giorni fa Casa Giovanna ha ospitato l'evento Il Gusto Sposa la Solidarietà. Il salumificio La Rocca ha offerto un pranzo ai numerosi membri della Casa Famiglia, i quali hanno potuto degustare i salumi e le carni lavorate nell'azienda picentina.